Terminata l'avventura all'interno della casa del grande fratello, i due ex concorrenti hanno deciso di viversi il proprio amore sotto la luce del sole Sono trascorsi pochissimi giorni dalla puntata finale del grande fratello che ha visto trionfare, un po' a sorpresa, Perla Vatiero nell'ultimo testa a testa con Beatrice Luzzi. L'attrice romana, ripenuta da molti la vera vincitrice del reality, si è dovuta accontentare del secondo posto ma siamo certi che la ritroveremo nuovamente protagonista in tv nel corso dei prossimi mesi A vincere, come detto, è stata Perla, la quale probabilmente è riuscita a conquistare il pubblico anche grazie alla sua relazione con Mirko. I due la scorsa estate hanno partecipato a Temptation Island concludendo il programma separati con Mirko che intraprese un flirt con Greta, anche lei protagonista dell'edizione appena conclusa del grande fratello. All'interno della casa più spiata d'Italia, però, Mirko e Perla hanno avuto modo di confrontarsi e di capire di essere ancora innamorati. L'amore, dunque, ha trionfato, Mirko ha aspettato diversi mesi Perla fuori dalla casa e ora che il reality si è concluso, i fan non aspettano altro che vederli insieme. Non solo Perla e Mirko, anche altre coppie hanno animato quest'edizione del grande fratello come per esempio quelle tra Letizia e Paolo, Greta e Sergio, Anita e Alessio. Anche in questi casi i fan del reality non vedono l'ora di scoprire come i protagonisti vivranno le rispettive relazioni al di fuori delle mura di cinecittà. Grande fratello, quale futuro per Mirko e Perla? Intanto spunta una tenera foto. I tantissimi fan di Mirko e Perla, come detto, non vedono l'ora di sapere come proseguirà la relazione, ma nel frattempo una foto pubblicata sui social non è passata inosservata. È stato lo stesso Mirko a condividerla su Instagram, nello scatto si vede Mirko abbracciare Perla con la parola normalità scritta dall'ex Jeff fino ad arricchire il contenuto. I due hanno spiegato che il loro desiderio è quello di vivere questa seconda parte della relazione con calma. In passato, infatti, alcune scelte affrettate hanno minato il loro rapporto, motivo per cui adesso è il momento di affrontare il tutto con maturità. Vedremo in che modo proseguirà la loro relazione, la cosa certa è che grazie al grande fratello si sono ritrovati. Perla e Mirko hanno dimostrato come il vero amore può trionfare su tutto.